Per il signore proponiamo quattro magnifiche scatole di cipria antiche, sono ancora piene, eccoli qui, ottimo stato di conservazione, prezzo dell'otto, 50 euro le quattro scatole. Per gli appassionati di roba militare invece abbiamo, guardate qui, una razione K della Prima Guerra Mondiale, mai aperta, se riesco l'altro io e la nostra, eccola qua. Come potete vedere, non è mai stata utilizzata, è un fondo di magazzino, che accedo unitamente a, ecco qua, prezzo delle due confezioni, 120 euro. Abbiamo poi, sempre per gli appassionati della roba militare o del ventegno fascista, una magnifica spilla dell'Ordine Nazionale Barilla, originale, prezzo 70 euro. Inoltre, abbiamo due moschetti, entrambi, qui abbiamo ciò che resta di un moschetto, trovato in qualche campo evidentemente, e poi abbiamo un moschetto integro inertizzato, cediamo il moschetto inertizzato a 700 euro, mentre questo rotame, che comunque ha sempre il suo fascino, lo cediamo a 50 euro. il numero da chiamare è 3459747860.